buongiorno miei carissimi amici di investire in borsa a caccia di dividendi nuova puntata di reagisco al portafoglio di oggi analizziamo il portafoglio del 48enne enzidam un portafoglio possiamo dire che sta crescendo mano mano spesso per qualche motivo a me ancora oscuro mi sono arrivati portafogli di entità con un controvalore molto molto elevato e invece raramente mi arrivano portafogli che sono più contenuti o in fase di costruzione che magari sono anche interessanti da andare a valutare perché c'è la possibilità eventualmente di cambiare strategia in corso o magari anche di prendere spunto per chi è più giovane e sta iniziando a investire in questo momento è bello vedere tante situazioni differenti enzidam è evidentemente un nickname chiaramente lo dico se volete rimanere anonimi non mandate il vostro nome e cognome ma mandate semplicemente un nickname che vi identifica tutto quello che verrà detto in questo video chiaramente non deve rappresentare un consiglio di investimento un consiglio per gli acquisti o per le vendite ma semplicemente è una mia opinione personale un mio personalissimo punto di vista poi nei commenti magari anche la community potrà dare i propri spunti di riflessione e magari chi ha inviato il portafoglio potrà beneficiare di questi punti di vista differenti perché spesso si rimane focalizzati sulle proprie modalità di investimento e non si valuta anche soluzioni differenti non si valutano soluzioni differenti spero che questi video servono proprio a questo e invito anche magari chi viene un pochino fra virgolette criticato a non prendersela troppo sul personale invito poi chi commenta a non essere pesante nei commenti offensivo ma di adottare la consueta filosofia della condivisione delle idee per crescere tutti insieme lo scopo del canale è proprio questo andiamo a vedere quindi alcuni dati del portafoglio di Enzidam lavoro non dice che lavoro fa ma lo stipendio di 1500 euro netti al mese convive senza figli la casa è di proprietà e c'è il mutuo non è specificato il l'importo del mutuo la capacità di risparmio mensile è di circa 400 500 euro quindi suppongo che l'importo del mutuo non sia altissimo o quantomeno sia condiviso con la convivente perché comunque una capacità di risparmio mensile di un terzo del proprio stipendio su 1500 è una buona capacità di risparmio vuol dire mettere da parte ogni mese circa il 30 per cento del proprio stipendio non è affatto male l'obiettivo breve a lungo termine è quello di creare un secondo stipendio con i dividendi una entrata aggiuntiva che sappiamo tutti dal punto di vista psicologico aiuta veramente parecchio e aiuta anche dal punto di vista non solo psicologico ma anche dal punto di vista reale ed economico i dividendi sono eccezionali perché coniugano psicologia ma anche concretezza quindi un portafoglio votato se non all'obiettivo del pensionamento anticipato comunque votato alla creazione di una stabilità economica e finanziaria da parte dell'investitore che può dare serenità nella vita di ogni giorno andiamo quindi a vedere il portafoglio non prima però di mettere un like al video in questo modo mi farete capire che questa rubrica periodica vi piace e se non volete perdervi i prossimi video mi raccomando iscrivetevi al canale youtube ecco qui il portafoglio composto da 14 titoli pochi molti dipende allora andiamo a vedere sono più o meno tutte abbastanza equipesate noi andiamo a vedere il controvalore di carico andiamo da un massimo di 5.231 euro di british american tobacco ha un minimo di 1000 euro per innovative industrial property per palantir e per un certificate anche generali assicurazioni nonostante il forte gain li potete vedere nella penultima colonna anche generali ha avuto una quantità investita iniziale abbastanza contenuta tutte le altre posizioni stanno più o meno lì nel mezzo con importi medi attorno ai 2000 3000 euro per ogni investimento quindi diciamo che è in costruzione questo portafoglio si tratta di un portafoglio costituito da 13 azioni e un certificate allora la diversificazione è sicuramente bassa 13 azioni secondo me sono bassissime per un portafoglio è un numero bassissimo per un portafoglio nel quale mancano gli etf un certificate magari aiuta dal punto di vista fiscale con le cedole e sappiamo anche bene che i certificate specialmente quelli cash collect con una barriera profonda abbassano notevolmente la volatilità del portafoglio partiamo proprio dal certificate dai è un fontobel con barriera al 55 per cento sottostanti tesla volkswagen e mercedes delle tre l'azione più volatile e quindi quella che potrebbe mettere a repentaglio la buona riuscita del certificate è senza ombra il dubbio tesla vista la sua volatilità però sarà anche quella che fornirà la possibilità certificate di staccare cedole più alte infatti rispetto a un prezzo medio di carico di 99,8 in questo momento il prezzo è salito a 103,7 anche in virtù del rialzo che c'è stato ultimamente su tesla io sto girando il video il 7 di luglio magari voi lo vedrete più avanti mi sto mettendo avanti visto le ferie e chissà cosa sarà successo a tesla in queste due settimane circa di buco andiamo a vedere il resto del portafoglio abbiamo intesa san paolo generali assicurazioni johnson johnson pfizer british american tobacco eni enel banca ifis am capital agency conosciuta anche come amgc se non mi ricordo male poi andiamo a vedere innovative industrial property iepr è un reit broadcom fortum e palantir con la stellina probabilmente mi vende a dire sono le azioni non presenti sul mercato italiano palantir palantir cosa dire è l'unica di questo lotto che non stacca dividendi potrebbe essere forse una scommessa sul futuro direi di sì perché non va a ricoprire il l'obiettivo appunto dei del chiamiamolo stipendo aggiuntivo come va detto il nostro amico ci può stare una posizione di questo tipo in portafoglio bisogna essere consapevoli che palantir è molto molto volatile qualità dell'azienda a volte discutibile però vedremo in futuro che cosa ci riserverà a prima occhiata direi portafoglio da 35 mila euro circa bene e bene anche il fatto che è in costruzione perché tutti i mesi riesce a risparmiare circa 400 500 euro cosa vuol dire in un mese in un anno scusate mi mette da parte circa 5000 6000 euro quindi un portafoglio destinato a crescere anche in virtù magari dei dividendi incassati totale assenza di obbligazioni una scelta io non dico che sia una scelta buona o cattiva è una scelta va preso in considerazione questo fatto piace non avere obbligazioni in portafoglio soprattutto la liquidità del del fondo d'emergenza è lasciato sul conto corrente oppure è investito in un altro modo conto di deposito attenzione perché bisogna sempre tenere presente che ci vuole un fondo per le emergenze e magari anche per sfruttare eventuali cali di mercato improvvisi come detto in precedenza 13 azioni un certificate secondo me la diversificazione è molto bassa si potrebbe valutare anche l'inserimento eventualmente di etf focalizzati proprio sui dividendi quelli di cui parliamo sempre il vanguarda i dividend il fidelity global income ma anche un banalissimo world a distribuzione o altri ancora insomma a seconda delle proprie esigenze e dei propri piaceri c'è una sovrapposizione sull'italia sicuramente con intesa generali assicurazioni enel enel e banca ifis quello che mi viene da dire è che forse il nostro amico punta di più sugli alti dividendi e sulla bassa tassazione infatti preponderanza delle azioni italiane c'è British American Tobacco che è l'azione che pesa di più e poi alcune altre azioni che andiamo a vedere allora statistica faccio anche questo appunto tra tutte le statistiche perché poi il file a destra continua profit e loss eccetera insomma la cosa che manca la cosa più importante è la statistica sul dividend yield e sui dividendi incassati magari lo tieni in un altro foglio io sinceramente non l'ho trovato per un cacciatore di dividendi tenere una statistica sui dividendi stessi è secondo me fondamentale più importante ancora dividere i guadagni o le perdite su una singola posizione che nel breve periodo può valere tutto e niente può valere dire tutto e niente nel lungo periodo insomma sappiamo che le azioni mediamente crescono andiamo a vedere alcune di queste azioni che puntano maggiormente su dividendo alto adesso ma in futuro non si sa Broadcom sicuramente è molto orientata alla crescita Johnson & Johnson mi piace alle quotazioni attuali devo dire mi piace e ha ottime possibilità di continuare la sua striscia ultra decennale di crescita di dividendi Pfizer sta affrontando un periodo abbastanza complicato ma secondo me c'è una negatività eccessiva sul titolo andiamo però a vedere alcune di queste azioni con dividendo alto che per il futuro potrebbe essere un punto di domanda sto parlando di Fortum che in realtà se non ricordo male rientra anche nelle dividend aristocrat europee con un dividend yield dell'8,15% un prezzo dell'azione molto stagnante negli ultimi 20 anni anzi siamo vicini ai minimi degli ultimi 20 anni è una utility finlandese da verificare magari con un approfondimento se questo dividendo così alto è sostenibile anche in futuro non facciamoci attrarre solo dagli altri dividendi ma cerchiamo di andare a scavare bene per capire se questi dividendi sono sostenibili anche in futuro un dividendo di questo tipo potrebbe anche essere raggiunto tramite magari un ETF ben diversificato chiaramente con scarsa crescita ma dividendi elevati ricordiamo infatti che gli ETF scontano già al proprio interno la doppia tassazione magari un dividendo del 6,5% di un ETF potrebbe equivalere a un 8% di una singola azione che subisce poi la doppia tassazione questo è un piccolo spunto non un consiglio di disinvestimento agnc agnc abbiamo visto è un REIT un dividendo il prezzo attuale del 14,77% un prezzo che continua a scendere da circa 15-20 anni prezzo che si è dimezzato e se andate a indagare anche il dividendo è in continua discesa non lo so a me non piace tantissimo questa azione poi magari si riprenderà però da valutare non solo il dividendo ma anche il trend del dividendo ok altro REIT operante nel settore della cannabis Innovative Industrial Properties qui sicuramente c'era stato un boom nel 2021 con il prezzo che aveva sfiorato i 300 dollari adesso siamo a 108 era sceso anche ben sotto i 100 settore abbastanza di nicchia dividend yield del 7% sarà sostenibile anche in futuro un dividendo così dipende anche dal settore della cannabis vediamo poi con le lezioni americane come si comporterà questo settore di nicchia se non sbaglio dovesse vincere Trump non lo so potrebbe essere anche un po' penalizzato o forse no perché da un lato magari il governo Trump potrebbe non appoggiare il settore della cannabis però dall'altro dovrebbe abbassare i tassi per stimolare ulteriormente l'economia che mi sembra già abbastanza stimolata in America i tassi più bassi sicuramente agevolano i REIT insomma per far vedere tre azioni Fortum AGNC e Innovative Industrial Properties che puntano sicuramente sugli alti dividendi ma bisogna vedere se questi alti dividendi sono sostenibili anche nel futuro per creare un portafoglio resiliente e da non andare a toccare troppo frequentemente queste insomma le mie impressioni su questo portafoglio mi sembra un portafoglio recente abbastanza recente votato sugli alti dividendi più che sui dividendi crescenti magari qualche piccolo ritocco quindi potrebbe essere anche fatto secondo me da valutare l'inserimento di ETF eventualmente specializzati proprio sugli alti dividendi crescenti nel tempo magari accettando anche un dividend yield più basso ma che possa crescere nel corso degli anni eventualmente da valutare se può interessare o meno l'inserimento di di asset obbligazionari sotto forma di fondi ETF o direttamente con singoli titoli queste le mie impressioni aspetto i vostri commenti in merito direi che però li abbiamo finito un saluto a tutti da Lorenzo a presto e ciao grazie a tutti